Cosa devo dire? Sto a che stank! Non c'è più! The Onivast Tube! Facci un commento a caldo! Buonasera a tutti, siamo qui nella notte di Pasqua, abbiamo acchiaffato il cerimonio della confraternita del Santissimo Sacramento per raccogliere le prime impressioni a caldo. Dopo un lungo lavoro di preparazione, con un'equip molto curata, siamo arrivati al punto della notte di Pasqua, una grande celebrazione che ci ha riuniti nella gioia, nella fratellanza, nella pace e che questo risotto apporti tanta pace in tutto il mondo. Perugui a tutti! Ma ci sarà il parire del priore... Scusi, 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 priore auguri, innanzitutto. Acchiappato un'intervista al volo, le prime impressioni a caldo è una notte di Pasqua, come è andata? È andata benissimo, complimenti soprattutto all'organizzazione, ai musicisti, non avete sbagliato niente, complimenti a tutti, bravi, bravi... Qual è il suo ruolo? Spendere i cornetti alla fine di ogni celebrazione... Ecco Rosaria che sta mettendo a posto tutte... Ecco l'organista principale, lei che dirigiva... C'è l'organista urbano e uno suonano l'organo, gli altri suonano i nostri strumenti... Cioè non è che... Non è andata più che bene, ciao Mari ci vediamo... Non è andata più che bene, possiamo sempre fare di più, però siamo andati di lusso... E non è andata più che bene, possiamo sempre fare di più, però siamo andati di lusso... Con questo è tutto, tanto ai gol di Buona Pasqua... Ciao a tutti! E arrivederci! Che deficiente! Qui è tutto, grazie per essere stati con noi... Auguri e buona serata da San Giacomo Cicci! Che è San Giacomo Cicci? Un beso, un beso assodo... Ciao Marco, Marco è buono! Ho letto, la terza lettura è andata bene! E dico che fai una domenica! Senza affincio proprio sto... Senza affincio proprio sto...